un saluto a tutti gli amici androidworld.it benvenuti nella recensione di motorola moto z3 play il nuovo medio alta gamma dell'azienda compatibile con i moto mods e in tal senso c'è una bella sorpresa all'interno della confezione andiamo a spostare un attimo da una parte lo smartphone che avevo già configurato qua dentro abbiamo un pacco di istruzioni manuale in tantissime lingue qua dentro invece abbiamo una sorpresa che avevo già spacchettato perché ho utilizzato moltissimo che è questo che è il moto mods battery pack 2220 se non vado errato miliampere ora esatto di batteria aggiuntiva che è possibile collegare con grande semplicità allo smartphone cavo usb usb tipo c l'alimentatore turbo power di motorola che è un non ricordo quindi vado a leggere 12 volt 1.2 ampere queste cuffie stereo in ear con i gommini che sono con il jack audio da tre e mezzo che però non è presente sullo smartphone e quindi non è compatibile con questo smartphone e quindi l'azienda vi regalerà anche questo che è un cavetto da jack audio a usb c è questo che serve sostanzialmente per legare questo adattatore alle cuffie e quindi non perderlo mi sembra un'ottima idea diciamo che tutto sommato l'azienda cerca di pensare un po a tutti vi da comunque delle cuffie che potete utilizzare anche su altri dispositivi vi da l'adattatore e vi suggerisce anche un modo per non perderlo non sono sicuro se questa sia la soluzione migliore ma è comunque dimostra secondo me quanto meno che l'azienda ci abbia ci abbia almeno pensato vado a prendere questo moto z3 play nella colorazione blu che è un blu molto scuro sembra sembra quasi nera dimensioni 156,5 76,5 6,7 mm di spessore è veramente sottilissimo è una cosa che mi piace molto di questo smartphone non dico che sia il massimo della maneggevolezza ma sapere che questo smartphone questa famiglia z continui ad essere sempre super sottile onestamente a me piace mi piace provare questi smartphone diversi taglienti insomma non il 100% al massimo dell'autonomia dell'ergonomia ma neanche uno smartphone estremamente scomodo tasto di accensione lettore di impronte digitali tasti del volume porta type c nessuno speaker ma c'è il microfono qui sul retro e due sulla parte frontale la capsula auricolare che funge da speaker il quarto microfono il carellino per la doppia sim o sim più un micro sd e questo è quanto non c'è quindi un app o un jack audio a 3,5 come vi dicevo pesa 156 grammi abbastanza leggero è splash and dust resistant quindi sostanzialmente resiste a polvere e spruzzi senza però una specifica certificazione che vi possa dare delle garanzie delle garanzie ulteriori un po un controsenso il tasto a sinistra per sbloccarlo e ribloccarlo e il lettore di impronte a destra che con un tocco va a sbloccare lo smartphone devo dire che non è velocissimo ma è molto preciso nel momento in cui voi poggiate il dito si sente una leggera vibrazione quindi siete tranquilli che lo smartphone si sta si sta sbloccando è un po il controsenso avere il tasto di qua il tasto di qua serve principalmente vi faccio vedere lo vado a premere c'è il mio faccione e si sblocca sostanzialmente quindi per lo sblocco con il volto sblocco con il volto che esattamente come il lettore di impronte digitali è preciso non è velocissimo ma è comunque preciso metto un attimo lo smartphone qui da parte vi parlo dell'hardware un processore snapdragon 636 octa corda 1.8 gigahertz una cpu adreno 509 4 giga di ram 64 giga di memoria interna espandibili tramite micro sd rinunciando come vi dicevo alla seconda sim connettività lt fino a 300 megabit per secondi secondo wifi abg nac e doppia banda bluetooth 5.0 cnfc il lettore di impronte digitali ve l'ho già raccontato la porta ipc a standard 3.1 manca il led di notifica manca il jack audio e manca la radio fm tre cose che è un po un peccato non trovare su questo smartphone il display è un 6.01 quindi un 6 pollici di diagonale full hd plus 2160 x 1080 pixel tecnologia super amoled devo dire veramente un bel display forse una delle cose più belle di questo smartphone con degli ottimi angoli di visione una buona luminosità l'unità automatica che fa bene il suo lavoro e soprattutto a ovviare l'assenza del led di notifica no non qui ma qui la presenza del moto display ecco qua l'avevo già aperta con la possibilità di vedere le notifiche anche a schermo bloccato anche quando solleviamo lo smartphone e per alcune notifiche ma tra l'altro quelle di messaggistica praticamente tutte anche poter rispondere direttamente dal blocco schermo questa è veramente una grandissima comodità non dovete neanche quindi ribloccare lo smartphone alla fine del messaggio ecco qua che appare appare passando la mano sopra appare sollevando lo smartphone appare quando riceviamo una nuova notifica e questa è una delle funzionalità android alla versione 8.1 oreo aggiornato con le patch di aprile quindi non aggiornatissimo devo dire che motorola non è più quella super veloce dal punto di vista dei aggiornamenti nonostante lo smartphone sia un android abbastanza stock chissà perché l'azienda non adotta android one probabilmente c'è qualche conflitto fra queste integrazioni di sistema dell'azienda quindi funzionalità comunque molto utili e magari quello che è richiesto da google per poter adottare un firmware android one altre funzionalità software sono le moto action che sono sempre di più comoda la possibilità di andare a fare il doppio martello per la torcia la doppia rotazione per aprire invece la fotocamera capovolgere per non disturbare comoda la possibilità di utilizzare vi faccio vedere eccolo qua la barra diventa più piccola per questo che io l'ho scelto quindi si libera un po di spazio questo diciamo sensore tra l'altro mi sa che l'azienda lo chiama proprio sensore tramite sensore per sportarsi sul telefono non è un vero sensore perché si chiamava così sui precedenti modelli dove c'era davvero lettore impronte digitali il sensore di lettore il sensore di lettori il sensore quindi delle per le impronte digitali che adesso è qui non si naviga tramite questo si naviga tramite questo che non è un sensore ma è piuttosto un'icona uno slide verso sinistra per andare indietro uno verso destra per il multitasking un tocco per la home un tocco prolungato per l'assistente di google quindi io ovviamente l'ho apprezzato dal primo secondo l'ho impostato l'ho tenuto perché mi è piaciuto il display anche due tratture non ve l'ho fatto vedere ma se il super amoled tarato in questo modo vi sembrasse un po esagerato potete andare a cambiare modalità di colore a quella standard che è decisamente più più spento e poi scegliere la temperatura di colore tra le moto action c'è anche la modalità di utilizzo ad una mano per il resto android è veramente quello stock quindi google now a sinistra tutte le app di google preinstallate non ci sono appunto funzionalità particolari se non quelle delle moto action e del moto display che secondo me sono molto molto degne di nota fotocamera sporgente neanche pochissimo doppio fotocamera 12 megapixel f17 più 5 megapixel doppio led flash a doppia tonalità e frontalmente invece una 8 megapixel f2.0 l'interfaccia è quella motorola molto veloce la messa a fuoco molto veloce lo scatto c'è anche lens di google integrato nella fotocamera le modalità di scatto aggiuntive sono abbastanza si trovano qui sono simpatiche modalità ritratto che funziona bene colore campione che permette di fare una foto in bianco e nero colorando però di un solo colore quindi se c'è magari vi faccio vedere poi un esempio che ci metto meno cinemagrafia che permette di fare una gif animata dove si anima soltanto una parte rallentatore timelapse e anche streaming live su youtube video lo vediamo qui fino in 4k 30 fps così si passa la foto e video e poi qua sotto possiamo abilitare per esempio una una funzione aggiuntiva vi faccio vedere qualche scatto personalmente mi è mi è mi è piaciuta l'ho trovata veramente una buona fotocamera parto da questa che è quella che vi dicevo in bianco e nero ho tappato sul verde del semaforo e mi ha colorato di verde soltanto le parti che appunto erano colorate di verde all'interno di questa foto le foto mi sono piaciute quelle con buona luce sono veramente molto buone l'hdr automatico lavora lavora bene che eravamo a madrid c'era veramente un sacco di sole non male anche quelle con poca luce anche se si nota un po la carenza di dettagli sui sui dettagli quelli un pochino più lontani ma tutto sommato comunque non è una cattiva fotocamera non mi ha invece impressionato la fotocamera frontale qui ho usato il flash software lo si vede ma la foto è venuta poco definita leggermente mossa nonostante tutto anche questa che era fatta con buona luce io sono venuto molto molto scuro non si è bilanciata come vedete correttamente anche questa la stessa storia quindi fotocamera principale per me assolutamente promossa quella frontale invece così così i video vengono abbastanza bene non sono non sono stabilissimi però come vedete sono comunque abbastanza stabile quindi non stavo camminando nonostante tutto si vedono un po di tremoli ma comunque poi troverete sul sito il video riassuntivo dove ho incollato insieme tutti i video che ho fatto detto questo vi ho praticamente detto tutto di di questa fotocamera vi parlo dell'audio e per farlo vado ad aprire modern combat 5 ora spero che non ci sia un aggiornamento perché non l'ho più aperto da qualche giorno qui adesso siamo in non disturbare no non voglio alzare la suoneria voglio non disturbare ma voglio alzare i contenuti multimediali l'audio esce tutto qui dalla capsula frontale si infatti mi sta scaricando un aggiornamento non so perché vediamo se qui mi dice quanto manca no non mi dice un bel niente tra l'altro lo sto utilizzando in modalità dual sim in questo momento vediamo vediamo comunque intanto vi faccio sentire l'audio è abbastanza buono per essere solo questa capsula però ovviamente abbiamo sentito di meglio niente sta scaricando veramente un sacco di sacco di file vediamo al termine di questa piccola presentazione mi dovrebbe dire quanto è grande l'aggiornamento quanto manca qual è il nostro destino perché purtroppo ho avuto ora mentre aprivo c'è ancora 700 mega sta riscaricando tutto in sostanza vabbè vi posso dire che comunque le performance sono assolutamente molto molto buone dal punto di vista del gaming porto fuori lo smartphone e faccio la telefonata di prova quindi scelgo la sim metto l'altoparlante molto molto bello il tasto cambia sim che riaggancia la telefonata e la fare partire con l'altra sim diciamo per essere la capsula auricolare si difende bene può quasi stupire però comunque il volume dire che sia al pari di altri smartphone in questa fascia sarebbe un po una bugia 3000 mAh di batteria che devo dire personalmente non sono pochissimi per uno smartphone da 6,7 mm anzi e mi hanno portato alla fine della giornata praticamente tutti i giorni ci sono state delle giornate super intense in cui ero in trasferta questo smartphone sto provando veramente da tanto l'ho trovato in ufficio al mio ritorno dalle ferie e in quei giorni questo accessorio è il risultato fantastico perché voi lo collegate così è stabilissimo non si muove veramente per niente aumenta lo spessore dello smartphone non di poco però aggiunge 2220 mAh qui la batteria vedete che è andata in carica posso spegnere questa fase di carica e quindi diciamo tenerla agganciata ma non caricare lo smartphone oppure tenere premuto e scegliere la modalità di carica quindi tenere sempre la batteria al 100% ottenere quella del ottenere lo smartphone invece all'80% che lui dice essere diciamo la modalità efficienza l'autonomia della batteria moto modo sarà maggiore perché probabilmente appunto lasciando che si scarichi riesce appunto ad avere un'efficienza migliore devo anche dire che secondo me la differenza fra queste due deve essere deve essere minima quindi fate un po voi io ho ottenuto questa perché era quella predefinita ma onestamente mi sono trovato alla grande mi sono trovato alla grande perché non si deve stare lì con i power bank con i cavetti poi sono sempre in movimento prendi un mezzo spostati di qua vai all'evento magari il power bank è molto scomodo quindi magari lo stacco mi dimentico di riattaccarlo così invece lo si aggancia lo si mette in tasca e il telefono sta in carica lo tiri fuori pensando a già ma il mio telefono chissà quanta batteria e magia la batteria è tornata al 100% io l'ho trovato veramente un accessorio fantastico secondo me questo dispositivo questo accessorio è un po il punto di svolta di questo smartphone perché qui arriviamo e arriviamo direttamente alle conclusioni secondo me questo smartphone è veramente un grande smartphone ma paragonato per esempio a un g6 plus che offre sostanzialmente praticamente lo stesso ma a 100 euro in meno questo dispositivo ha il vantaggio dei moto mods e fra tutti i moto mods questo della batteria che tra l'altro è in omaggio quest'anno all'interno di moto z3 play z3 play è quello che fa veramente la differenza all'avere uno smartphone sottile leggero con una batteria ok ma magari non stellare che può diventare uno smartphone dalla batteria stellare semplicemente prendendo un accessorio e attaccandolo qui quindi diciamo due facce ma due smartphone sostanzialmente in uno il batteri phone e quello super sottile super leggero ed elegante per questa recensione di moto z3 play è tutto un saluto dai manuali cisotti per androidworld.it